Una tragedia ha sconvolto la città di Agropoli in un tranquillo pomeriggio di settembre. Francesco Torino, 67enne del posto ed ex maresciallo dell'esercito in pensione, è morto travolto dalla sua auto. Il dramma in località Moio, presso l'abitazione dell'uomo, che dopo aver accompagnato la moglie a fare delle commissioni è rincasato, fermando la sua auto su una rampa in pendenza. Francesco, sceso dalla vettura, era andato ad aprire il garage che si trova alla fine della discesa, quando improvvisamente l'auto si è avviata, ha preso velocità lungo la rampa e lo ha travolto. L'uomo è rimasto schiacciato tra la vettura e un muro e nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare. A lanciare l'allarme il genero e alcuni passanti che hanno visto l'auto ferma in discesa contro il muro e il corpo esanime del pensionato. Da chiarire ancora l'esatta dinamica dell'incidente. Pare infatti che l'uomo avesse acquistato l'auto di recente e si suppone non avesse ancora preso dimestichezza col mezzo. Potrebbe essersi dunque distratto e non aver tirato il freno a mano, oppure per una tragica fatalità il freno si sarebbe disattivato. Tutte ipotesi ancora al vaglio degli inquirenti mentre la salma del 67enne è stata rilasciata per i funerali ai familiari dell'uomo sconvolti dalla tragedia così come tutta la comunità agropolese dove Francesco era molto conosciuto.